Giovedì 19 ottobre, rieccoci cari amici del canale YouTube. Giovedì vuol dire ripresa degli allenamenti con gran parte, quasi tutti, i nazionali. Questa è la novità di oggi, finalmente Stefano Pioli riesce a lavorare con quasi tutta la squadra rientrata dopo gli impegni con le rispettive nazionali, Tomori, Kier, Leao, Reinders, Giroud, insomma anche i francesi considerando poi che contro la Juve non giocheranno per squalifica Theo Hernandez e Meignan. E quindi l'allenatore rosso-nero molto probabilmente dovrebbe sostituirli con Sportiello e Florenzi. Attenzione anche a Bartesaghi ma soprattutto contro la Juve, credo che la fascia sinistra sarà affidata a Florenzi. Però purtroppo le nazionali hanno restituito al Milan un giocatore infortunato e questo è un problema perché Stefano Pioli con l'infortunio di Ciucu Eze Un infortunio ottenuto purtroppo con la Nigeria, con la maglia della nazionale nigeriana, una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra porta l'attaccante esterno ex Villareal a saltare quasi un mese. Quali partite salterà Ciucu Eze? Innanzitutto la doppia sfida di Champions League contro il Parisa Germain, quindi la gara d'andata che si svolgerà settimana prossima e anche l'altra doppio impegno contro i parigini saltato i due big match contro Juve e Napoli anche quelli li salterà purtroppo e anche molto probabilmente le partite contro Udinese e Lecce sono le sei partite tra campionato e Champions League che Ciucu Eze dovrebbe saltare prima di arrivare alla prossima sosta quindi in teoria considerando un mese di stop per una lesione credo di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra Ciucu Eze lo rivedremo al rientro dell'altra sosta, quella di novembre quindi parecchio tempo fuori e in questo frangente, in queste sei partite bisogna trovare delle soluzioni Innanzitutto chiedo a voi che siete partecipi in questo canale con dei commenti chi potrebbe essere l'alternativa a Pulisic? È normale che non può giocarle tutte Pulisic dall'inizio alla fine, 90 minuti su 90 in realtà, anzi mettiamoci anche il recupero ogni tre giorni tra campionato e Champions League sarebbe follia lasciarlo in campo sempre rischio infortunio, rischio di vedere un giocatore anche un po' stanco dopo due, tre, quattro partite di fila quindi c'è bisogno di trovare una soluzione senza Ciucu Eze saltano queste rotazioni a sinistra secondo voi in quella zona del campo chi dovrebbe schierare Stefano Pioli? L'idea principale è quella di innanzitutto far giocare un po' di più Luca Romero Romero che è ex giocatore della Lazio, arrivato a parametro zero giovane che ha giocato pochissimo fino ad ora una manciata di minuti contro il Cagliari attenzione, lui non è stato inserito nella lista Champions del Milano quindi già dovrebbe saltare a prescindere le due partite di Champions contro il Paris Saint Germain quindi già due gare su sei non può giocarle le altre quattro con Juve e Napoli la vedo difficile sono dei big match probabilmente con Lecce e Udinese ha qualche possibilità in più e poi Pioli potrebbe adattare un giocatore lì come Okafor attenzione a questa opportunità che si apre per Okafor giocatore svizzero che è rientrato a Milanello dopo l'infortunio all'arcata sopraccigliare Okafor sostanzialmente gioca a sinistra è il sostituto di Leao e l'alternativa a Leao però potrebbe giocare anche a destra potrebbe essere un giocatore da far alternare da far ruotare con Pulisic in assenza di Ciucueze altre alternative magari alzare in alto a destra quindi nel tridente offensivo un giocatore di centrocampo mi viene in mente Musa che gioca come mezzala a destra volendo anche Florenzi se non sbaglio qualche partita la giocata anche con la Roma esterno alto però sono tutte soluzioni i giocatori adattati a meno che Pioli non cambi modulo a meno che Pioli non giochi magari con un modulo diverso potrebbe quindi magari passare al 4-3-1-2 oppure al 4-2-3-1 cercare quindi una soluzione alternativa per adattare la sua squadra all'assenza di Ciucueze per non utilizzare sempre Pulisic secondo me difficilmente cambierà modulo perché si sta trovando bene con il 4-3-3 è un modulo nuovo rispetto all'anno scorso però i suoi frutti li sta portando considerando che il Mian è primo in classifica in Serie A è vero il Champions League ha totalizzato due pareggi ma in queste due partite ha comunque avuto tante occasioni per vincere la gara non ci è riuscito non ha segnato ma non ha nemmeno subito gol quindi bilancio direi positivo con il 4-3-3 e quindi da capire chi sarà il sostituto di Ciucueze e l'alternativa a Pulisic è una domanda che magari possiamo porre a Stefano Pioli che tra l'altro fa conferenza stampa sabato alla vigilia di Milan Juventus alle ore 14 quindi riprenderà a parlare all'allenatore rossonero e poi c'è una notizia di cronaca che non si può non commentare ragazzi c'è anche abbastanza preoccupazione è sparito Emil Robach giocatore di proprietà del Mian in prestito al Nordkoping in Svezia tra l'altro il prestito al Nordkoping dovrebbe scadere al 30 di novembre quindi tra un mese e dieci giorni tra un mese e mezzo lui era stato prestato a questa squadra marzo scorso e si sono perse le tracce nel vero senso della parola non si capisce dove sia non risponde al telefono è scomparso è stato lanciato un appello anche da parte del direttore sportivo Tony Martinson attraverso i media attraverso i giornali in Svezia per capire qualcosa in più di Emil Robach a questo punto c'è anche un po' di preoccupazione attorno al giocatore vi leggo il virgolettato del direttore sportivo del Nordkoping che dice voglio sapere che sta bene è preoccupante che non riusciamo a contattarlo non so cos'altro possiamo fare ho provato a parlargli molte volte ma è difficile raggiungere voglio che venga qui così da trovare una soluzione insieme che funzioni per tutti non ho rinunciato alla speranza che ritorni ma è difficile capire se non lo vediamo da 14 giorni quindi praticamente da inizio ottobre non si fa sentire non si fa vedere ricordiamo che Emil Robach aveva già interrotto un prestito a marzo scorso a Nordjylland a Nordjylland in Norvegia se non vado errato e poi è stato riprestato ad una squadra svedese tra l'altro lui è proprio nato a Nordkoping quindi è la città dove è nato probabilmente il prestito del Milan in questa squadra è stato fatto anche per cercare di dare al giocatore più sicurezze torna a casa e in quell'ambiente magari può emergere e invece no ha giocato solamente tre partite in tutta la sua esperienza in questa squadra svedese sono comunque poche è davvero un minutaggio bassissimo diciamo che Robach ora ha 20 anni e comincia ecco ci si aspettava probabilmente qualcosina in più mi ricordo quando era arrivato al Milan addirittura sotto consiglio di Zlatan Ibrahimo e ci aspettavamo un giocatore un po' più incisivo alla fine abbiamo visto che anche con la squadra primavera ha fatto vedere poche cose non è stato quasi mai utilizzato e poi ha cominciato questa girandola di prestiti ci auguriamo innanzitutto prima cosa che il giocatore stia bene che faccia sapere qualcosa alla squadra magari faccia una dichiarazione un post sui social su Instagram per far capire che stia bene ed è la prima cosa e poi che si trovi una soluzione sia insieme al North Copping ma anche insieme al Mian per cercare di far emergere il talento di questo giocatore perché credo che negli ultimi due anni si sia un po' perso a livello calcistico a livello tecnico quindi il suo contratto scade a fine novembre al 30 di novembre del 2023 che è un contratto un po' particolare scade a fine novembre dovrebbe ritornare al Milan e lì poi si trova si spera una soluzione giusta per Emil Robach ricordo 3 maggio 2003 giocatore di 20 anni punta centrale di 1,88 della nazionale della Svezia ragazzi vi saluto vi abbraccio mettete like attivate la campanella e soprattutto seguite il canale non costa niente è gratuito basta cliccare su iscriviti però è fondamentale per la crescita del canale grazie a tutti ciao ciao